Il PM Grazia Pradella nell'udienza di oggi in Tribunale Imperi ha chiesto una condanna a sei anni e sei mesi di carcere per l'ex dirigente della medicina legale dell'Asra imperiese Simona Del Vecchio. La Del Vecchio, difesa dall'avvocato Marco Bosio, è accusata di peculato, falso e truffa gravata ai danni dello Stato. Le accuse nei suoi confronti erano sorte a seguito di indagini della Guardia di Finanza, secondo le quali la Del Vecchio avrebbe firmato certificati di morte senza nemmeno vedere i cadaveri e referti autoptici senza eseguire correttamente le autopsie. Inoltre, la dirigente, poi licenziata dall'Asra imperiese, avrebbe utilizzato l'auto di servizio per suoi scopi personali. A seguito della richiesta di condanna avanzata dalla pubblica accusa, l'Asra imperiese ha chiesto un risarcimento danni di 150.000 euro, in parte per danni di immagini e in parte per danni patrimoniali legati ai disservizi e alle assenze ingiustificate e all'uso improprio di mezzi della stessa Asle.